ciao a tutti bentornati sul mio canale allora oggi ci siamo truccati insieme eyeliner a due colori facilissimo fatto con matite e ombretti ma in più tutta la base eccetera vi faccio proprio un trucco estivo come faccio io la base in estate perché mi duri tantissimo e non sia pesante sia comunque glow dove voglio e matte dove voglio il risultato a me piace da morire è la stessa identica tecnica per gli occhi che ho usato l'altro giorno per fare l'eyeliner azzurro con la differenza che oggi è un degradé di verdi potete farlo con qualsiasi colori tra l'altro io ringrazio tantissimo look fantastic per aver collaborato con me a questo video avermi fornito alcuni dei prodotti che ho chiesto e come sempre codice sconto per voi non ho figliato tutta colpa di giulia tutta attaccata tutto maiuscolo una cosa importante sono giorni di super super promo da look fantastic vi scrivo tutti i dettagli in info box bene andiamo a truccarci allora prima cosa primer ve ne ho già parlato anche nel video sul top makeup anti aging ragazzi il project face plum fix è una roba meravigliosa questo è un primer ma si usa anche come siero e abbiamo peptidi tremella ginseng ialluronico una roba meravigliosa e io lo metto perché voglio un effetto idratante replumping non unto che mi vada a bilanciare l'azione potenzialmente un pochettino più secca di un fondotinta in polvere perché ovviamente il focus per noi è long lasting ma io d'estate amo molto le polveri perché tengono bene e tendono a notarsi troppo se il buffo malefico suda e però non voglio neanche un effetto prosciugato questo primer è perfetto poi voglio un correttore perché il correttore lo metterò in modo un pochettino più ampio di come lo metterei di solito perché il fondo in polvere che ho scelto che è veramente fantastico e lo shiseido di cui vi parlo sempre non è super coprente quindi dove ho macchiette rossori occhiai eccetera vado con un correttore che vada bene proprio anche per pieghe rughette bla 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 che sia bello smoothing e coprente e infatti utilizzo l'i glam concealer di natasha denona nel colore n2 tra l'altro notizia da paura il nostro codice sconto tutta colpa di giulia tutto attaccato maiuscolo adesso passa in modo permanente anche su natasha denona gioiamo quindi semplicemente lo stendo in modo abbondante dove ho qualche macchietta qualche rossore quello che voglio coprire e poi lo sfumo con una spongia una volta uniformato l'incarnato volendo uno potrebbe anche da qui passare direttamente a una cipria perché a me sinceramente a maggior ragione estate non mi interessa che sia super full coverage mi interessa che sia naturale long lasting e infatti poi parleremo di come ottengo risultato setting spray stratificazione crema e polvere è il modo migliore per avere un risultato naturale ma comunque long lasting prendo il synchro skin di scissedo colore 150 lace che è il mio colore parto prima con un pennello piccolo e vado a pressare proprio presso il prodotto nelle zone in cui voglio maggiore coprenza tra l'altro questo è così sottile ed elastico come come polvere che va benissimo anche nel perioculare e la cosa bella è che anche quando ne metto un chilo vi posso giurare che non segna e non fa l'effetto secco cosa che per me è fondamentale perché ripeto per me è importante che una polvere sia bella da vedere no e vado e l'ho presso nelle zone dove ho una macchietta un brufoletto capillare una roba così cerco di mettere meno prodotto possibile però nel baffetto perché perché in quella zona molto facilmente suderò e meno prodotto c'è meno si vede che si è spostato perché il segreto spesso è poco prodotto poi prendo un pennellone ampio e lo presso nelle zone dove mi interessa meno coprire vado anche a uniformare il tratto con la spugnetta il risultato è molto più coprente ma io la utilizzo solo per volendo aggiungere appena un po' di coprenza magari nelle zone in cui ne voglio appena di più se invece volete un risultato super coprente spugnetta tra l'altro questa è un prodotto tinta wet and dry ma io in generale non uso mai le polveri wet perché le trovo un po' pastose allora utilizzo un prodotto liquido poi una volta fatto questo primo strato di setting spray ovviamente all nighter di Urban Decay è il setting spray long lasting per eccellenza e il nuovo alla vitamina C è molto meno asciutto molto meno secco è più idratante ma comunque super long lasting e adesso che hanno fatto anche il formato travel volo primo strato di setting poi passiamo agli occhi allora lo sapete tutti sono nella fase di ombretti liquidi matte o matite colorate non amo truccare troppo gli occhi perché in generale quando tieni la base un po' più leggera non vuoi che il trucco si sposti eccetera a volte un bel pop sugli occhi sottile io lo preferisco magari suda molto il viso, suda la piega l'ombretto si apre preferisco evitarlo ovviamente metto sempre un ombretto nella piega e prendo la mia adorata palette di matte di cui vi ho parlato mille volte che è di Doll Beauty si chiama Dolly Mixture questi ombretti sono fantastici è una palette full matte e io prendo il colore Burly Liquor che è un senape giallo e ne prendo poco giusto per fare una traccia di questo colore nella piega non voglio che si veda infatti ne prendo pochissimo e scaico particolarmente il pennello ovviamente ci deve essere però voglio che sia il più sfumato possibile perché il focus del nostro trucco è una matita eyeliner in realtà ha due colori come quella che ho fatto l'altro giorno nel trucco azzurro che vi è piaciuto moltissimo però questa volta la facciamo tipo verde e verde acido volo lo stesso colore lo metto al volo nella rima inferiore iniziamo la nostra stratificazione per la durata e utilizzerò due matite la Natasha Denona Macrotech Camu Camu che in questo momento se non sbaglio è sold out ma tornerà è la mia adorata Stila Artist X Graphic Liner in Ula la prima nella prima parte dell'occhio la seconda nella seconda parte dell'occhio e poi andremo ovviamente a tamponare degli ombretti in questo modo otteniamo un risultato super bello da vedere super facilissimo da fare e ovviamente scegliamo matite molto long lasting per fare questa cosa in modo che poi l'ombretto può impolvere aggrappi benissimo duri un sacco di tempo e si ottenga comunque un effetto visivo molto bello perché io personalmente adoro questo tipo di effetto poi prendo la matita di Stila proseguo congiungendomi con la parte esterna nella seconda parte sto un pochettino più ampia poi che cosa faccio? guardo dritto accenno il flick prendo un pennello classico da eyeliner a punta e tiro il flick poi col dito faccio così e hai un effetto super sharp questa è la nostra base lo faccio anche dall'altra parte e torno ora prendo la Nouveau di Anastasia che ho visto che è arrivata da Look Fantastic e userò questi due colori Lily e Hope Lily nella prima parte Hope nella seconda uso lo stesso pennello bagno la punta con il setting spray così setta ancora di più l'ombretto prendo Lily e lo vado a pressare sulla parte del giallo fluo proprio presso il colore in questo modo soprattutto dal vivo risulta praticamente un eyeliner super duochrome e la matita di Natasha Denona è così long lasting in generale tutta la linea di queste matite di Natasha che potete anche non settarlo con un ombretto e non si muove di lì però il risultato così duochrome a me piace molto pulisco il pennello prendo Hope stessa cosa ribagno il pennello prendo Hope che è un verdone e vado a settare l'ombretto questo è un tipo di make up che a me piace moltissimo e potete realizzarlo con qualsiasi colore qualsiasi matita ora prendo uno dei nuovi Revolution e i shadow stick nel colore sinful green è praticamente un dupe di hourglass chiari, satinati e questo è un verde chiaro e lo metto all'angolo interno perché all'angolo interno non so perché ma è una delle zone in cui a me il colore del make up va via prima e quindi anche qui voglio una bella base cremosa che faccia aggrappare il colore e ci metto non ho pensato a cosa metterci ma metterò l'illuminante direi prendo l'illuminante che poi metteremo sul viso che è di Rimmel e lo vado a pressare in questa zona perché ovviamente la vogliamo bella luminosa dove l'ho messo qua in questo modo dopodiché un trucco come questo potete a andare a strutturare anche la rima inferiore in modo colorato b lasciarla super maturale io personalmente prendo la matita di stila quindi la verde appena più scura e la metto nella rima interna solo nella seconda parte in modo che fa un effetto allungante in questo modo che è super super metallizzata e poi la metto anche appena tra le ciglia io adoro queste nuove matite di stila ve ne ho parlato in tutti i laghi e in tutti i mari lo sapete così giusto perché richiami la cosa ripeto potete farlo con qualsiasi colore ora trucchetto prendo il fondo in polvere lo pulisco dall'ombretto di prima e vado a pulire e schiarire il più possibile la linea sotto l'eyeliner così ha un risultato il più pulito possibile in questo modo ora mascara come sapete io non sono una grande utilizzatrice dei mascara waterproof però in estate li voglio molto molto resistenti per cui ho scelto l'In Extreme Dimension mascara di MAC perché questo davvero 24 hour wear questo è un mascara che resiste praticamente a qualsiasi cosa è molto usato dai truccatori anche per le spose in generale se non sbaglio anche però la versione waterproof ma per me questa è già super uber long lasting perché ovviamente più c'è caldo più anche il viso può sudare più il mascara può colare questo è un mascara con lo scovolini nella stomero micro micro dentellatura e la cosa bella è che è da un volume mondiale ma costruibile cioè se ne mettete poco ha un volume più discreto ma un bel volume panoramico aperto pittinato se invece continuate a stratificare questo diventa davvero bombastic pensate che è un mascara che adora la mia mamma ad esempio le piace proprio tanto e io devo dire che quando lo metto ogni volta mi sgrido sgrido me stessa dicendomi giù ma perché non lo metti più spesso guardate che effetto pazzesco volume super panoramico super lungo e poi posso continuare a metterne praticamente finché voglio e lui continua a costruirsi ma la cosa pazzesca è guardate la lunghezza delle ciglia boom una volta fatto questo viso e anche qua parola chiave stratifichiamo prendo i miei dorati stick di nude sticks io li uso sempre a maggior ragione in estate mi trovo benissimo prendo bondi bay il famosissimo amatissimo viralissimo bronzer ne metto un pochettino sulla mano poi prendo un pennello due fibre non ne metto tanto perché non sarà il mio bronzer principale ma sarà la base per fare aggrappare il il bronzer in polvere questo è un bronzer bellissimo i prodotti di nude sticks io li metto tranquillamente anche sulla polvere come potete vedere l'unica cosa io non metto mai nessun prodotto in crema di nessun brand dallo stick preferisco metterlo così così lo gestisco molto molto meglio nell'applicazione lo metto col pennello e poi di solito con la sponge vado e sfumo i bordi e ne sto questo è un colore a me piace moltissimo veramente moltissimo sono anni che ve ne parlo anni che lo uso e lo sto usando perché una base cremosa sotto il prodotto in polvere fa dorare molto molto di più la base ne potrei mettere anche molto di più ma non voglio perché poi ci vado su con un bronzer in polvere che è già molto long lasting poi prendo naughty and spice dei nudismat blush anche questo bellissimo mondiale e poi qui lo vedete molto mauve ma una volta applicato è un rosa con una punta di mauve bellissimo prendo la sponge questo è il mio modo proprio per applicarle e mi concentro anche nella parte esterna per avere un effetto sempre verso l'alto ma ho ragione quando avete i capelli legati come me sapete che quando è estate io non riesco a portare i capelli sciolti a meno che non si spiaggia con i capelli bagnati e mi piace moltissimo seguire un po' la linea che danno i capelli quindi portando il blush bene bene verso l'alto ne approfitto per applicare il bronzer in polvere di provare uno dei nuovi pennelli zoeva perché è uscito tutta la nuova collezione vegan e questo qua è il 119 bronzer e noi volimo il pennello da bronzer cupoloso può essere molto carino bronzer mio preferito della vita lo sanno anche i sassi iconic london l'ultimate bronzing powder in light bronze mio bronzer preferito super super long lasting prendo il pennello tolgo lì c'è bello questo pennello è di seta e non essendo troppo denso di setola lo sfuma tantissimo in applicazione beh mi zoeva zoeva ultimamente ragazzi ha tirato fuori il chicchificio municipale proprio chiccherie ovviamente sulle guance voglio settare manca avere luce perché la parola d'ordine per me in estate è glow ma solo dove lo voglio io e prendo i kissed by the sun di iconic london stupendi meravigliosi ne abbiamo già parlato mille volte anche di questi subito avevo pensato di mettere l'hot stuff che è un corallo luminoso spaziale ma non lo so pendo molto per il playtime che mamma mia vado col playtime basta col mio solito the multi blend brush che questo pennello lo amo alla follia questi se li swatchate col dito direte quello che ho detto io la prima volta cioè ma cos'è quella roba qua in realtà poi messi con un pennello ampio glossano la pelle in un modo incredibile senza però avere quell'effetto proprio che enfatizza i pori vedete cioè è glow ma non è un glow unto non è un glow glitterato è bellissimo ed è proprio l'effetto pelle bacita dal sole che io adoro infatti mi sto concentrendo molto anche sul naso e sulla parte bassa dell'occhio in questo modo stupendo illuminante rimmel highlight in colore stardust questo è praticamente un dupe del vecchio famoso di anastasia l'illuminante in estate a mio avviso si può anche non mettere soprattutto se si suda molto in viso perché all'effetto sembra ancora più sudati io invece però lo metto in modo strategico poco molto preciso solito pennello di Real Techniques lo prendo e lo concentro proprio qua nella parte alta dove ho applicato anche la sfumatura del blush quindi non vado avanti come faccio di solito ma lo concentro praticamente tutto in esterno in questo modo in modo che quando mi giro e quando parlo l'effetto è ancora più glossato agli esterni senza però avere l'effetto unto poi lo prendo col dito solo appena appena sulla punta del naso appena e mi fermo ora di nuovo setting a morte all nighter vitamina C forever voilà ci ho fatto il bagno e poi decido se aggiungere togliere sulle labbra ho due opzioni numero uno questo è un set di Smashbox è l'after the after party lip set di Neutral qui abbiamo una lip liner bellissima infusa con appunto primer super long lasting questo è il medium neutral rose matita labbra bellissima super super long lasting è anche molto levigante perché appunto è infusa con il primer in più il colore cioè va bene veramente per tutti è super super universale se vogliamo delle labbra super long lasting rossetto liquido questo qua è lo Smashbox always on nel colore stepping out e in questo caso ci possiamo garantire un colore meraviglioso e un risultato super long lasting tra l'altro questi sono tra i pochi rossetti che a me piacciono perché non sono troppo secchi però in questo caso io invece di usare il rossetto liquido faccio una cosa diversa uso l'absolu rouge di Lancome Intimatte nel colore 276 cozy sexy questo rossetto è diventata letteralmente un'ossessione e ora vi mostro cos'è sembra un po' un coreano ma più lussuoso più morbido più levigante guardate la bellezza è esattamente il mio colore delle labbra ma senza peso e vellutate praticamente è come non avere niente sulle labbra e questo colore stra vergognosamente guardate quanto leviga la mucosa labiale poi tampono bene così si fissa adoro nel caso se no l'opzione B per quanto mi riguarda sono gloss molto specchiati questo qua di Nars è il colore Chelsea Girl guardate come stanno bene anche insieme secondo me la bellezza di questa labbra è top poi cosa faccio ultimo ultima tips prendo un velo leggero di fondo in polvere di nuovo leggero e lo presso soprattutto naso e guance pochissimo altrimenti copre tutto quello che abbiamo fatto e metto un altro piccolo strato di polvere in questo modo a me non si muove più niente sapete che facciamo mettiamo anche un po' di hot stuff tanto che ci siamo quello un po' più acceso soprattutto sulla pometta e sulla parte bassa dell'occhio bene questo è quanto la mia tecnica per avere un risultato di look estivo bello giocoso ma portabile e soprattutto super super long lasting tra l'altro vi ricordo che in questo momento da look fantastic ci sono un sacco di offerte top io sto girando questo video in anteprima per cui so che ci sono ma non so ancora quali saranno con precisione ma vi scrivo già tutto in infobox il nostro codice sconto è sempre solito sempre un affiliato tutta colpa di Giulia tutta attaccata e tutto maiuscolo vi voglio bene grazie di essere stati qui con me un bacione